Scusate, ma la discussione su quanti contenuti dover pubblicare online, dover pubblicare online, per parlare con i miei potenziali clienti, per me è una discussione che non sta in piedi. Il tuo potenziale cliente è come la persona che ami. Tua moglie, tuo marito, fidanzato, fidanzata. Sempre che lo ha. Ma voglio dire, quante volte ci parli alla settimana con la persona che ami? Il più possibile. Hai voglia di sentirti, di parlarti. Magari non troppo, perché sennò sei un logorroico, rompi i coglioni, e probabilmente il rapporto non andrà bene. Ma ogni giorno ci parli o no? E certo che ci parli. Anzi, se non la senti ti preoccupi, ti viene l'angoscia, perché dici, aspetta, dove è finita? Il rapporto è continuativo, necessariamente continuativo. E allora perché uno con un potenziale cliente non ragiona nello stesso modo? Perché le aziende professionisti si permettono di pensare che con il loro potenziale cliente invece no, possono parlare una volta alla settimana, nel weekend no, perché sono via, faccio il weekend lungo, ma non funziona così. Devi parlarci tutti i giorni. Chiaramente ci devi parlare nel modo giusto. Se lo spammi, se gli mandi le robe che sono non interessanti, se metti dei contenuti inutili, se metti dei contenuti che sono una gran rottura di palle, è chiaro che quella roba lì non funziona. Ma se metti dei contenuti utili, interessanti, è un rapporto che coltivi ogni giorno. Se ragioni come se stessi parlando con la persona che ami, è molto semplice. Parlaci il più possibile, nel modo migliore possibile, col maggiore amore possibile. Oppure, se decidi di non farlo, sappi che al posto tuo ci parla qualcun altro. Se sei tranquillo a parlare con tua moglie una volta alla settimana e ogni volta che esci di casa a cento tizi che ci provano, se sei contento tu, va bene così. Grazie.